Ci sono questi anelli che sono qui, che vi siete donati reciprocamente e questo è il momento per scambiarveli. Con questo atto cerchiamo di ricordare ai cittadini che nel mondo ogni anno milioni di bambine vengono date espose a uomini maturi. Siete venuti a contrarre il matrimonio senza alcuna costrizione? Questo oggi succederà 37.000 volte nel mondo. 37.000 bambine come Giorgia si ritroveranno sposi ad un uomo maturo, probabilmente un uomo ricco, un uomo che ha contratto dei crediti nei confronti della famiglia di Giorgia, un uomo di cui la famiglia di Giorgia cerca la protezione e per questo è disposto a sacrificare la propria figlia. Lui dice che è un ottimo partito e che se mi sposo con lui aiuto loro. Io gli ho detto che sono contenta, proprio come la mamma mi ha detto di dire. Devo sempre rispondere di sì. Grazie. 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 Grazie.